Andrà tutto bene? Certo! Come? Semplice, rinforzando il nostro sistema immunitario. E la nostra Italia è una perla in questo. Abbiamo il sole, l'aria del mare, i nostri semi. Da generazioni rigorosamente conservati, che solo noi sappiamo seminare. Germogli cresci dalla luce del sole, accarezzati dal vento. Poi raccogliere, fare farina e produrre il nostro pane. Mmm, che buono! E che profumo! Leggerissimo! Ed abbiamo i campi, dove troviamo ortaggi selvatici. Chi lo ricorda il cappuccio? Mmm, che buono il cappuccio! Gustosissime, sia a foglie che cime. Ottime per cucinare con la pasta. Anche le nostre erbacce sono importanti. Non gettatele via. Facciamo il compostaggio con esse. Molto semplice. Così come lo facevano i nostri antenati. E concimiamo i nostri terreni al naturale. Senza bisogno di chimica. Che tutti noi sappiamo l'effetto che fa per la nostra salute e benessere. Nel frattempo ci muoviamo. E il nostro sistema immunitario ringrazia. Il nostro latte, formaggio, latticini. Noi siamo l'Italia. Camminare e prevenire virus e anticorpi con il nostro buon aglio. Antibiotico naturale, antivirale. Così come il timo, cresce spontaneo su tutta la nostra penisola. Basta raccoglierlo. E noi siamo italiani. Cerchiamo tra montagne e campagne. I bulbi, le radici. E cibo, alimento. Incontaminato. I frutti ci aspettano. Sono lì. Basta raccoglierli. E il nostro sistema immunitario ad essere a dura prova. E noi abbiamo tutto. Sole, mare, cibo, volontà, coraggio. Creatività, conoscenza, cultura, civiltà. Non dobbiamo temere il futuro. Perché esso ci ridarà il tempo.